Un pasto caldo per alimentare il corpo ma anche per condividere un po' del proprio tempo con chi si trova nel bisogno, in condizioni economiche disagiate, per chi soffre di fame e solitudine. Non è solo una mensa quella che opera a Paternò nel Catanese, la bisaccia del Pellegrino è un servizio prezioso, nato grazie ad un lavoro di squadra fra il comune, l'IPAB Salvatore Bellia che ha messo a disposizione i locali di sua proprietà, la Caritas Vicariale e il volontariato sociale. Messi insieme abbiamo cercato di offrire un servizio per la collettività, per coloro i quali in questo momento particolare hanno bisogno del nostro aiuto, della nostra assistenza, della nostra vicinanza, soprattutto umana e poi tante volte anche con la mensa, soprattutto anche di aiuto al corpo. La mensa sociale offre 60 pasti caldi ogni sera, 7 giorni su 7. Nei locali di Via Vittoria Emanuele 357 la bisaccia del Pellegrino è a disposizione di tutte le persone che hanno bisogno del cibo ma pure di una presenza amica che li accompagni nei momenti difficili della propria vita. Un luogo dove si coltiva la speranza, dove si dà la possibilità delle persone a quegli ultimi tra gli ultimi che esistono nella nostra città, nella nostra realtà, la possibilità di avere un riferimento, dove poter consumare un pasto caldo per persone che purtroppo non sempre si possono permettere questo nella propria famiglia, nella propria casa. E poi la possibilità di socializzare, di stare insieme, di avviare delle relazioni, la disgregazione delle famiglie, la solitudine nella nostra città purtroppo è un male molto presente.